Un saluto amici del centro metro italiano. Ultime note di stabilità special sud Italia, ma per la prossima settimana si va confermando un'espansione dell'anticirone delle Azzorre. Nella prima metà della settimana l'alta pressione guadagnerà terreno soprattutto sull'Europa occidentale e centrale, fingendosi fin verso Germania e Polonia. Con l'Italia ai margini e ancora parzialmente interessata da questa circolazione depressionaria potrebbero non mancare locali temporali pomeridiani. Nella seconda parte della settimana ecco però che l'anticiclone dovrebbe guadagnare terreno anche sul Mediterraneo centrale, portando condizioni tipicamente estive. Buona parte dell'ultima decada di giugno potrebbe trascorrere in compagnia dell'anticiclone delle Azzorre e, a differenza dell'africano, non porta a condizioni di caldo particolarmente intenso. Trattandosi di tendenze sul lungo periodo, seguite come sempre tutti gli aggiornamenti, sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del centro metro italiano. Grazie 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 Grazie